E' morta a 87enne la Leonessa dell'Iran, Simin Behabani, la più grande poetessa persiana dell'ultimo secolo, due volte candidata al premio Nobel, un'opera al cui valore è stata sottolineata da importanti premi internazionali. Suoi versi furono citati anche in un discorso di Barack Obama nel 2011 per il nuovo anno persiano. Il soprannome di Leonessa dell'Iran è dovuto anche alla sua militanza per la libertà di espressione e i diritti delle donne. Ha scritto poesie anche di forte contestazione sotto il regime dello Shah prima e degli Ayatollah, poi senza mai essere bloccata, fino al 2010, quando fu arrestata mentre si imbarcava per Parigi. Ormai 82enne, quasi cieca, fu portata in caserma, interrogata per una notte intera, per poi essere rilasciata ma senza passaporto. E' morta a Teheran, dove era nata.